Un buon pomeriggio a tutti, questa è l'ora solare scattata come sempre da lunedì al venerdì sulla nostra e vostra tv 2000 per tenere la finestra spalancata, adesso che stiamo andando oddio fa tanto freddo dappertutto, però insomma mano a mano che ci avvicineremo verso la primavera più che mai finestre spalancate sulle nostre storie che oggi vogliono partire da una grandissima storia d'amore, ma grande grande grande, una storia d'amore che dura da 26 anni, che è partita con un sì detto sull'onda di un entusiasmo che ha fatto bene a essere tale, se poi vi dico che questo entusiasmo ha prodotto nove figli, insomma vuol dire che era giusto così, Sabrina Moranti e Quirino Marchegiani ma non è tutto qui, ben trovati, grande bacio e grazie di essere con noi, raccontata così sembrerebbe, sapete quei film che vengono raccontati in quattro righe, per far arrabbiare l'amico no guarda sono belli, si amano, si sposano e stanno sempre insieme e fanno nove figli e è rovinato il finale invece il vostro è tutto un percorso, e vissero felici e contenti, arriviamo a tutto questo allora per conoscere da subito l'inizio della storia, Quirino le faccio una domanda retorica comincia lei o comincia sua moglie? ma mia moglie ma com'è preparato quest'uomo, com'è preparato, preparatissimo perché la vostra storia è proprio bella e inizia in modo, inizia in salita sì, diciamo che io non avrei mai pensato di arrivare oggi qui, in questa trasmissione cioè storicamente a raccontare quello che è successo in questi 26 anni di vita dove la mia vita è stata completamente stravolta, rovesciata rispetto a quello che avrei potuto pensare o immaginare, insomma, anche se ero una ragazza, voglio dire perché non avevo, ecco, non avevo una grandissima, diciamo, opinione né volontà di sposarmi né di avere dei figli non pensavo che avrei avuto dei figli pensavo che la mia vita sarebbe stata dedita sicuramente alla mia passione che è la danza, volevo partire, volevo andare in America, studiare in America tante cose che poco avevano a che fare con quello che sono oggi, diciamo e quello che lei è oggi passa anche, come sempre, a volte passiamo per grandi dolori, no? perché sembrano essere non il solo modo, ma il modo per poter cambiare poi le cose e la sua vita era anche lontana da un'idea di fede che oggi permea tutto fino ad arrivare a quella danza che è rimasta e che è diventato un lavoro spettacolare ma questo lo spiegheremo nel finale ecco, questo avvicinamento com'è avvenuto? Sì, dunque, Dio non esisteva, non faceva parte del pacchetto sicuramente, addirittura se c'era, diciamo che qualche cosina avrei avuto da discutere sono successi dei fatti, diciamo, un pochino dolorosi, abbastanza dolorosi nella mia vita che mi hanno, sì, sicuramente addolorata, segnata, mi hanno fatto perdere la speranza un pochino questo lo devo dire, la prima cosa è stata la separazione dei miei genitori quindi avevo 17 anni, ero già grande, quindi avevo già visto, avevo un'idea di famiglia mi ero strutturata con un'idea di famiglia e perderla improvvisamente è stato vedere la fine dei punti di riferimento ma anche la fine di un obiettivo ritrovarmi così sbandata dall'oggi al domani senza, così, veramente, la mia vita non aveva molto senso, diciamo e a questo poi si è aggiunta la morte di un ragazzo, un fidanzato con cui c'era un progetto forse di matrimonio, non lo so, eravamo molto giovani però anche quello è stato mettere uno stop come vedere la fine delle cose belle e a volte, perché le cose belle partano, a volte la fine segna davvero il clamoroso nuovo inizio e qui sono costretta a passare da Quirino perché insomma, se no, se no, poi adesso capisco la generosità essere cavaliere, la cavalleria, però non esageriamo con la cavalleria poi siamo due a uno, non sarebbe carino perdo in partenza insomma, finalmente svantaggiato finalmente, per un attimo svantaggiato perché poi racconteremo quanti siano i marchegiani in famiglia perché tutti i ragazzi sono ovviamente e com'è stato questo primo incontro? un colpo di fulmine perché una nostra amica comune con cui io avevo fatto gli scout e aveva studiato lo USM con Sabrina mi dice a un certo punto ma non ci vedevamo spesso vuoi uscire sabato sera con me e un gruppo di amici? e io le dissi ma mi vuoi piazzare qualcuna? e lei era dall'altra parte e diceva, poi me l'ha raccontato no, 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 no e vado a questa cena bene e vedo Sabrina e poi è nata la cosa sì, ma è vero che in quanto tempo vi siete sposati da quando vi siete insomma, da quando le date, le date precise sì allora, 21 ottobre ci siamo, diciamo, fidanzati fidanzati il 2 novembre in uno slancio così che sembrava folle e poi invece si è tradotto in realtà la mia senilità non mi sembra fosse il 2 novembre un po' dopo comunque a Dovindoli io pensavo più il 7 dicembre comunque lei dice il 2 novembre quindi non si attento che ora le dice anche come lei fosse vestito perché noi donne non solo ci vediamo il 2 novembre io avevo un paio di orecchini bellissimi c'era il ponte non ti ricordo il maglione che ti avevo regalato ma come? esatto lei dice io comunque entro l'anno mi sposo dicendolo a me guardando no, guardando a me allora io ti dico ma sposa a me giustamente nel senso o mi sposo entro l'anno o non mi sposo mai più questo era ma era una provocazione vai a capire e non deve fare questa provocazione vai a capire perché Quirino l'ha presa sul serio aspetta Quirino come ha detto suo papà ha detto mangerete mio padre no, suo padre chi ha detto mangerete mangerete pane e gli angeli quando formalmente mi presento che ragazzo quando formalmente mi presento dal papà e gli prospettiamo questa eventualità io non avevo ancora un contratto perché ero consulente gruppo Mediaset ma non si sapeva se poi poteva proseguire questo percorso professionale per cui dico con tanto entusiasmo perché noi poi il signore provvederà in qualche modo lui mi guarda esterrefatto rivolto alla fila dice ma che vi ha mangiato pane e angeli e quindi è proprio da papà giustamente ecco sì diciamo che nessuno avrebbe scommesso una lira allora nessuno avrebbe scommesso una lira il matrimonio avviene il 30 maggio signori andate a ottobre ottobre mi voglio sposare entro l'anno sposa me maggio questa fotografia proprio stacco su di loro perché sono marito e moglie però prima c'era stato diciamo a far scoccare il tutto questo lo voglio raccontare perché è molto bello l'invito ad un ritiro spirituale dove Sabrina si avvicina ad un sacerdote insomma il concetto di confessione forse non era ancora era nelle sue corde ma anche no insomma e accade una cosa molto bella da parte di questo prete sì bisogna considerare la terra l'humus da cui io venivo per cui digiuna di tutto ciò che fosse chiesa catechesi da anni dalla prima comunione mi ritrovo catapultata in questo ritiro tra catechesi esperienze eccetera e vengo proiettata dentro una confessione che non so neanche cosa sia e a quel punto io che ormai tacevo queste cose che avevo dentro perché ormai avevo messo un bel coperchio così e di getto comincio a raccontare ma con una verità profonda cioè non so cosa è stato è stato proprio un sì un mare che usciva e e lì è successa una cosa che ha segnato la mia vita perché io ho visto questo sacerdote anziano quindi con molta esperienza che aveva sentito già immagino storie di tutti i tipi ho visto questo sacerdote che non ha detto una parola ma piangeva insieme a me e se state con noi e lo so che voi state con noi tra qualche minuto vi raccontiamo come questa meravigliosa storia abbia prodotto meravigliosi frutti lo rassoliamo bravo quanto siete belli allora io provo eh con Sabrina Moranti e Quirino Marcheggiani moglie e marito da 26 anni in porta Andrea e poi non sono brava nel calcio mi sento come Sandro Ciotti quando declinava la nazionale italiana i figli Andrea Davide Agnese Daniele Rachele Paolo Simone Giorgio Alessio mamma è un popolo è un popolo di cui due gemelli sì sesto e settimo sesto e settimo Paolo e Simone congratulazioni cosa mi devo dire è bellissimo sì non ci annoiamo no ma essere papà di così tanti ragazzi avere una moglie che regala questo frutto in famiglia la persona forte in casa così mi arrendo subito è Sabrina che carino aiuta come collante a tenere le redini e devo dire che come padre di sette maschi la dignità e l'autostima viene un po' ad essere l'esa perché c'hai magari i figli che ti guardano papà e magari manca la carezzina ormai no no papà è papà papà è la roccia no mi vogliono bene mi vogliono un gran bene il primo figlio si è sposato un anno e mezzo fa però ancora non ci ha dato nessuna notizia di nipotini in arrivo e l'ultimo Alessio questo è il 25 questo è il 25 signor di matrimonio il 25 signor di matrimonio e Alessio adesso fa sei anni a maggio ed è il bambolotto di casa e ovviamente è il viziatissimo ma nel senso migliore del termine insomma no è chiaramente ora per un attimo proviamo a fotografare la vostra la vostra giornata tipo mi da pensare più fotogrammi più fotogrammi anche perché insomma organizzatissima sì 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 dovete essere organizzatissimi sì sì assolutamente è un caos ben ordinato allora quando siamo un po' stressati ci guardiamo e diciamo siamo due macchine da guerra quindi vi autocaricate vi autocaricate così sì come come gestite? allora inizio io con gli accompagni per cui ho fatto un calcolo rapido che tra qualche anno riesco ad uscire fuori dagli accompagni scolastici è già un bel risultato e sarà già un risultato certo perché adesso Alessio finisce la scuola materna e sta al tranno iniziare la prima elementare Quirino io non vorrei darle una notizia poi comincia a fare il nonno che accompagna guardi il giovanissimo nonno però lei dice per ora finisco gli accompagni appena fra una però perché per il momento è l'attività principale della prima parte della mattina insomma ci sono vari istituti scolastici e quindi i percorsi sono diversi e poi come prosegue? a pranzo tutti a casa c'è il lavoro mattutino a pranzo riusciamo a però non con tutti però a stare a pranzo quanto avete ingrandito il tavolo del tinello? a quattro prolunghe a quattro prolunghe perché è una famiglia? il ciclope aveva cose più piccoline infatti ritendo oggi siamo pochi perché Agnese non c'è Rachele mangia fuori a scuola siamo solo sette perfetto fantastico guardi va bene quando siamo sette siamo pochi favoloso io penso a quando a casa ci arrivano due amici oh mio dio cosa faccio cosa posso cucinare ma non è solo il cucinare avete trasmesso a questi ragazzi valori fede ognuno di loro saprà come no? come assorbirla come viverla però soprattutto trasmettete il messaggio ai due genitori che si amano bella sfida e che si vogliono bene è una bella sfida oggi è una bella sfida quanti anni ha il primo figlio che si è sposato? 26 26 che non è esattamente un'età nella quale i ragazzi decidono no? infatti ci ha colpito non gli avete detto cosa mangerà i pane angeli no lo sapeva lo sapeva sentite questa Sabrina perché le buone abitudini non si abbandonano mai guida la scuola di musical danza armonia academy che accoglie chiunque voglia avvicinarsi al mondo della danza ma con la danza avvicinarsi allo star bene con se stesso e con gli altri quindi fate un gran lavoro di una buona opera è una buona opera devo dire che ho traslato nella scuola quello che è un po' la nostra vita cioè il dono dell'accoglienza che abbiamo ricevuto perché io a mia volta sono stata accolta nella chiesa l'ho traslato nella scuola per cui non non amo fare le selezioni siamo sono un po' diversa questo è un mondo selettivo posso dirlo sì appunto no non amo ho degli spazi per tutti c'è lo spazio per il professionismo c'è lo spazio per l'amatoriale ma è un luogo che accoglie insomma brava Sabrina no selezioni e andando per non selezionare che succede? che nottetempo Sabrina da come riportano le fedelissime cronache delle mie autrici scrive un musical e questo musical è dedicato a Papa Giovanni Paolo II a San Giovanni Paolo II uomo tra gli uomini cos'è la santità se non un sì e siete andati al teatro Sistina di Roma a rappresentare questo musical l'applausi tanti complimenti grazie però qui devo dire qualcosa io parlo io il produttore io come testimone prima che come produttore sì perché ho visto qualcosa di straordinario in questa esperienza è stata forse l'esperienza che in questi 26-27 anni mi ha colpito di più perché io stavo allestendo nel novembre del 2013 una mostra ai Musei Vaticani fotografica con la mia società su Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII che sarebbero stati canonizzati di lì a poco il 27 aprile del 2014 ok Sabrina perché avevo dei provini che portavo a casa per scegliere solamente 100 foto tra le migliaia scattate da Arturo Mari il fotografo dell'osservatore Romano lei a un certo punto con quello il suo sguardo che io riconosco quando è determinata e mi dice guarda io voglio scrivere qualcosa su Giovanni Paolo II ma non qualcosa di consueto mai perché tutti hanno scritto tutto su questo gigante la fede vorrei fare qualcosa di diverso e io la guardo e gli dico ma sì ma per farne cosa un musical sì ma per rappresentarlo quando ma evidentemente il 27 aprile era il novembre 2013 non c'era nulla però Quirino aspetta un attimo lei dovrebbe essere abituata che questa donna fa così perché si è sposata entro l'anno e con la stessa forza è riuscita a creare un'opera bellissima bellissima credetemi bellissima evidentemente quando io ho questo sguardo interdetto lei lo accoglie se ne rende conto e mi dice no aspetta aspetta se riesco in poco tempo magari vedo che la penna è fluida c'è un intervento divino vedo che sono aiutata se mi incaglio lascio perdere ho anche la libertà per poter dire un'idolatrice lascio stare quando dico che sono testimone perché lei in 15 notti quando stava mettendo i dentini Alessio lo prendeva dalla culla e scriveva al computer dopo 15 giorni dice eccolo qui il copione c'è io ho gli occhi qua sotto io il 27 aprile l'ho visto rappresentato prima l'auditorium della conciliazione dopo due anni siamo andati a Sistina però vederlo lì con alcuni figli che ballavano su quel palco che recitavano per me è stato un momento guardi che resistano lucidando gli occhi se non si ferma si lucidano anche a me è stato un momento bello anzi lo faccia è la donna che lei ama che è accanto però me lo permetta un uomo speciale eccolo qua uomo tra gli uomini in musical la missione di Sabrina e Quirino santità e dire sì alla missione che Dio ci ha donato grazie di essere stati con noi un grandissimo piacere avervi avuti ospiti grazie Quirino grazie e baci a casa tanti baci grazie 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 a tutti grazie a tutti